salve benvenuti a quest'altro nuovo video oggi voglio presentare come si può somministrare un medicinale a propria porzione d'india non è molto facile come si fa con il proprio cane o con il gatto che è possibile forzare la la bocca entrono tutti chi non so la pillola o un liquido con la siringa con un porcine d'india molto più difficile quindi adesso vi mostro prendendo in questo caso prenderò lei lei è la mia femminuccia che si chiama sissi faccio vedere come io sono ministro questo farmaco ok allora prendiamo tra le mani sembra c'entrata non fa la stessa non falla spaventare quindi con un dito qui sotto la bocca cerchiamo di aprirgli così si vedete così un attimo un attimo un attimo così va bene è molto più condiscente vi faccio vedere come faccio con il maschietto questo è un attimo di raccrozio non hai questo è come un bimbo piccolino che fa sempre il capice non è molto facile basta mettiti con un dito sotto la bocca e gli tiriamo la pelle in questo modo comincio a mostrare i denti in questo caso approfittiamo ecco qua così e inizio in pari che ripeto con il giro di una pelle sotto il mento quello di automaticamente vi mostrerà i dentini guardate ci faccio vedere così vedete in questo approfittate e gli date il medicinale quindi vi saluto e al prossimo video ciao 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 ciao